Ciao Oggi leggiamo una cosa in merito sulla mail Che mi ha fatto un po' preoccupare Repubblica Italiana Direzione Centrale della Polizia Giudiziaria Brigata di Protezione Minori Alla tua attenzione Sono la signora Nunzia Ciardi Direttore del Dipartimento di Polizia Statale Delle Comunicazioni Capo della Brigata per la Protezione Dei Minori BPM Perché A B Brigata B C D F G B Protezione Minori M BPM Ok Pensavo con il ritmo Ti contatto poco dopo un sequestro informatico Di infiltrazione informatica Che vuol dire Autorizzato in particolare in materia di Pornografia Ho letto bene Pornografia Cyberpornografia Esibizionismo E non c'è nessuno per giudicare L'esibizionismo Traffico sessuale Dal 2009 Ora facendo un po' un calcolo Pornografia Pornografia Di Fai E tutte quelle robe la A volte I videoclip Mi ricordo bene Che volevo scaricare TNT Degli ACDC Ho scattiato questo porno Per sbaglio E i protagonisti erano un po' Piccoli La cosa mi ha fatto un po' Paura E li ho cancellati Amo i bambini Ma non così tanto Non amo così tanto i bambini Anzi penso che Amare troppo una cosa Te la fa un po' Vivere male E amare troppo i bambini Te li fa Vivere male Cyberpornografia Ma che cazzo vuol dire Esibizionismo E non sei Nunzia Non sei un cazzo di nessuno Per giudicarmi Veramente E' arrivata anche a Nanni Anche lui ama i bambini Io non so niente Di un cazzo di nulla Traffico sessuale Dal 2009 E questo pure è finto Siete oggetto Di numerosi procedimenti Legali In vigore Pornografia Io vi giuro Che quando penso ai bambini Non li penso Quasi mai Nudi E tutte le volte Perché ho detto quasi Tutte le volte che li penso nudi E' perché Vado al mare E ci sono quegli strani genitori Che li spogliano E per me è veramente un pericolo Fare questa cosa qua Perché fra di noi Si nascondono veri mascalzoni Daniele ne parla spesso Di uno in particolare Nelle sue live streaming Io non so un cazzo di niente Perciò Non perciò Eh Ma non li mai Non li immagino mai Sotto contesti sessuali Ma perché sono piccoli E ci diciamo No Non mi scatta nessuna campanella Esibizionismo Questa dovete spiegarmela Continuo a non capirla Cyberpornografia E questa ripeto Non vuol dire Un cazzo di nulla Per tua informazione La legge numero 2007 Andate a cercarla Legge numero 2007 Barra Trattino 293 Del 5 Mi esce questa roba Ma non mi esce Sembra che non esista O comunque Forse non la so Io non ho mai studiato legge Ragazzi Sono un uomo semplice Faccio i video Ok Del codice penale Aumenta le pene Quando le proposizioni Le aggressioni sessuali O gli s*****li Ma non si parlò di s*****li Ah Perché se sono bambini Sicuramente Non esiste Non esiste il concetto Di bambino con senziette È vero vero Ragazzi scusatemi Io a volte Esco fuori dalle nuvole Potrebbero essere stati commessi Utilizzando internet Cioè Le mando al bambino Ficca di l'USB In culo Che cazzo vuol dire Fallo se non d'ammato Ma che cazzo vuol dire Gli stupi Potrebbero essere Forse Ah Questo sempre perché Sono ignorantino Questo è perché Molta gente I bambini Via desca online Quindi Ma che cazzo Di diritto Perché è tutto Veramente strano Nella mia vita E tu Hai commesso i reati Dopo essere stato preso Di mira Internet Di mira internet Che è lo stato In cui sei In cui qualcuno ti ha d'occhio Però su internet Ti hanno messo in mira Internet Se una persona ti tiene Sotto occhio È normale Ti hai in mira Mentre invece In mira internet Sito pubblicitario Ma che cazzo vuol dire Sito pubblicitario Poi durante gli scambi Di posta elettronica Io Fossi uno stupore Oltre che andrei Subito alla polizia A dire Ho scopato Tizio Cai E sempronio Tizzino Caino E sempronio Perché sono Dico Ma Non userei mai La posta elettronica Perché è facile Che mi beccano Questo non vuol dire Che sto dando consigli Dico solamente che Sembra fake Questa mail Le due foto di nudo Che invia a minori Tramite il tuo indirizzo IP Sono state registrate Dal nostro cyber poliziotto E costituiscono Una prova dei tuoi reati Cosa Io so Io so che il cyber poliziotto Esiste come lavoro Ma secondo me no Cosa fai di lavorare Il cyber poliziotto Non lo so Io non invierei mai Le mie foto di nudo Specialmente A minori Ora che ci penso Mando solo le mie foto di nudo Ad adulti Solo per far ridere Lo faccio solo per far ridere Ve lo giuro Anche perché non mi Credo così degno Da mandare foto di nudo Poi magari sono insicuro Non lo so Mandatemi messaggi carini Ma soprattutto Non lo farei mai Con bambini Perché? Perché loro sono piccoli Ancora non possono capire La comicità Sessuale Quindi non gli farebbe ridere È come Cioè stare andando Da un pubblico Che non ride Delle cose che io mando Non è proprio la mia persona Ragazzi Voi mi conoscete E potete andare D'annunzi a dirlo Se pregavo di farti sentire Via email Scrivendoci le tue Giustificazioni Affinché Vengono messi in esame E verificate Al fine di valutare Le sanzioni Sembra tutto molto difficile Questo è entro Un termine rigoroso Di 72 ore Io questa mail qua L'ho ricevuta circa Due settimane fa Quindi sono fottuto Ma forse 72 ore Dalla visualizzazione Cioè Dalla contemplazione Quindi forse Da adesso Da adesso Trascosto del termine Saremo obbligati A inviare La nostra denuncia Al signor Edmondo Brutila Liberati Edmondo Bruti liberati Ma dovete rinchiuderli Brian Bisi 98 Ha donato 3 euro Marco Ho un amico poliziotto Qua in stanza Mi pare strano Che la polizia Ti contatti in questo modo O ti stanno prendendo Per il culo Probabile pedosto Fuso orario E un reato grave Allora Ti dovrebbero a prendere Senza preavviso Ok Grazie 3 Euro E mi sento un po' Un pezzo di merda A giudicarti così Ma sei un vero coglione L'amico poliziotto Non so se leggi sopra Deficiente Qui Signore Qua Cyber Cyber Poliziotto Questo non è un solo Non è un solo Non ha La pistola Il taser È tipo più SI per poliziotto Liber Ma esiste Però il fatto è che Edmundo Bruti liberati Esiste Non si vede niente però Edmundo Bruti liberati È un magistrato È accademico Italiano Ex procuratore Della Repubblica Milano Ex presidente Attività professionale Comunque niente di E l'ultima cosa L'ha fatta nel 2011 Procutore Della Repubblica Di Milano Specialista In cybercrime Non sembrava Per Redigere Un mandato Di cattura Nei vostri confronti Ci pensate Di venire la polizia E mi cattura Inviarla alla polizia Più vicina Al vostro luogo Di residenza Per il vostro arresto E denunciarti Come molestatore Sessuale Con quest'ordine Di importanza Però È più importante Vabbè Il tuo file Verrà anche inviato Ai media Per la diffusione Dove la tua famiglia I tuoi cari E tutta l'Italia Vedranno Cosa stai facendo Davanti Al tuo computer O cellulare Mamma Ma se mi stai guardando Te lo giuro Te lo giuro Con tutto me stesso Io non ho mai Fatto l'amore Con bambini Mai Ma se vuoi il fatto Non mi piacerebbe neanche Non mi piacerebbe neanche Ho molte amicizie Che dicono la frase Mi piacciono quelle là piccoline Però intendono di statura E sono sicuro Che ci sia Un'insicurezza Detto di loro E che lo stanno facendo Per questo Non si sentono abbastanza E quindi Vanno dalla piccolina Che vuole il grande Che vuole proteggerla E quindi si sentono Che possono Solo nella loro league Sono pane Per i loro denti E penso che un po' La pedofilia Un po' funzioni così Cioè l'insicurezza Diventa così tanta Che solamente Con chi può dirti Chi non può dirti No puoi andare Ma io non sono così Polizia Questo messaggio Le mando alla polizia Io non sono così Ragazzi Vi rigiuro Vi rigiuro questa cosa qua E lo rifarei sempre Perché Non mi piace Non mi piace Mi trovo veramente a disagio Dover parlare di questa cosa qua Perché Ho anche fatto un video Sullo Invito Tutta la polizia A guardarlo E loro Vedranno Nel video Che ho fatto sensibilizzazione Su questi argomenti Molto importanti E questa cosa qua Mi duole Il fatto che io sia Che mi arrivino Questi mail Mi dà un po' fastidio Perché non sono vero Sto pare sta arrivando Cyber polizia Ha donato 2 euro Ciao Signor Marco Merrino Questa che le parla È un'intelligenza artificiale Del secondo reggimento Della cyber polizia Di San Donato Lo guendo Posi qualsiasi cavo internet Che potrebbe adoperare Per effettuare Struppi via internet E alzi lentamente Le mani Io Non ho mai Mai utilizzato Cavi di internet Per fare Online Mai Brian Bisi 98 Ha donato 2 euro Non voglio nessun euro Indietro 9 Dario Moccia Sa tutto sul mostro Di Firenze